Ciao a tutti angeli e benvenuti in un nuovo video. Chi sono io? Io sono Charlie e oggi andremo a parlare di un argomento che potrebbe essere un po' controverso, un argomento che potrebbe scaldare gli animi. Sicuramente mi arriva qualche denuncia oggi, io me lo sento. Però noi siamo qui speranzosi che non mi arriva nessuna denuncia e andiamo subito nel cuore dell'argomento. Ma i brand dell'influencer stanno morendo? Infatti l'altro giorno, mentre guardavo il vuoto del soffitto di camera mia, stavo pensando alle farfalle, ai cartoni della Disney, poi il mio cervello ha detto Juno. Quindi sono andato a controllare Juno. Juno è il brand di Cleo Toms, forse era il brand di Cleo Toms, infatti Cleo in un video ha detto che Juno non esiste più. Ecco, da lì è partita tutta una interrogazione mentale, un dialogo con me stesso e le mie personalità multiple sul destino di molti brand di creator. In questi anni abbiamo visto la nascita di una miriade di brand, siano strani che oltreoceano. M.U.A., Laura Lee, Extralandia di DempT, Emily Satany Beauty, Nicole P., Juno. I nomi si sprecano. Ma quanti di questi effettivamente riescono ad affermarsi da realtà indie o non così indie, come vi vogliono far credere, e poi diventare brand effettivamente di successo? Ecco, oggi andiamo un po' a vedere questo argomento andando ad analizzare qualche caso in particolare. Quindi, come al solito, preparate le vostre cinture, preparate il vostro vinello bianco, il vostro tacchino arrosto, o quello che volete, se siete vegetariani, come al solito, le lasagne con i funghi, però mandate mele che a me piacciono. E iniziamo subito con questo video. Sigla. Come al solito, urge una premessa, perché qui le premesse, lo sapete, non si sprecano. Questo, come al solito, è un video informativo e divulgativo. Scriviamolo qui, perché non si sa mai. Non voglio andare a parlare mai di nessuno, non voglio fare drama, semplicemente voglio chiacchierare con voi. E infatti vi chiedo, già da ora, di lasciare un commento facendomi sapere se sapevate di questi brand, se li conoscevate, oppure se non li avete neanche mai sentiti nominare, o se siete capitati qui a caso. In quel caso, siete benvenuti e se volete potete, oltre a lasciare un commento, iscrivervi al canale e lasciare un mi piace. Questo mi aiuta tantissimo a crescere in questa piattaforma e continuare a portarvi dei contenuti che spero vi stiano intrattenendo. Vorrei fare tipo i creator che vi dicono... Vedo dagli analytics che tornate e non vi iscrivetevi. Fate quello che volete, cioè se volete iscrivervi vi fate un regalo, se non volete iscrivervi lasciate un commento almeno, così almeno io il video va bene, qualcun altro che si voglia iscrivere, cioè ecco, facciamo così. Seconda premessa, per i brand italiani è un po' più difficile, la ricerca di informazioni fiscali italiane, per quanto siano pubbliche, sono sempre un po' più noiosette da racimolare, però ho fatto il mio pure lì e qualcosa la sappiamo. Detto questo, direi di iniziare subito col video. Ah no, un'ultima cosa, visto che me lo state chiedendo, lascerò scritti i prodotti che sto usando e, se Charlie dell'editing e della pubblicazione se lo ricordano, ricordatevelo, Lascerò anche i link in infobox, visto che me l'avete chiesto, io leggo i vostri commenti, sto cercando di riprendere e rispondere a tutti e ho visto che molto spesso me l'avete chiesto, quindi cercherò di fare anche questo. Ma ora avviciniamoci, perché dobbiamo truccarci e chiacchierare. L'industria make-up in questi anni è cresciuta in maniera esponenziale, è un'industria che ormai fattura triliardi, e sì, triliardi esiste come parola, in pratica ho anche cercato il significato perché non sapevo neanche come si scrivesse triliardi, e un triliardo sono mille miliardi. Un po' di soldi che sono un po' di soldi. Ed è proprio grazie a queste informazioni che possiamo dire con certezza che l'industria make-up è una di quelle più in crescita in questi anni. Secondo me c'è stato un po' un rallentamento e bisognerebbe anche lì cercare di capire il perché, ma forse quello è per un altro video. Sicuro i protagonisti di questo cambiamento sono stati i content creator, gli influencer, persone di social che si sono messe a creare i loro brand e hanno avvicinato ancora di più la loro fan base a questo mondo perché chiaramente oltre magari la passione del beauty che è necessaria se ti compri qualcosa di make-up e si suppone che ti piace al beauty, sicuramente l'affetto che prova la community verso il proprio creator che crea il suo brand aiuta la vendita dei prodotti. E in questi anni abbiamo visto davvero tantissimi brand nascere. Uno dei primi brand italiani a nascere è stato Mulac della Zendina che da poco ha compiuto dieci anni. Tanti auguri Mulac. Se volete un video su Mulac lasciate un commento per passare poi a brand come quello di Cleo Makeup. Oltre a cena abbiamo già visto quelli di Jacqueline Hill. Sto preparando il video su Kat Von D che è un video molto lungo quindi ci vorrà un po' di tempo per strutturarlo. Ma ancora Jeffree Star, ora da poco è arrivato James Charles con il suo Painted, c'è Laura Lee, c'è Dominique Cosmetics, c'è Manny & M.U.A., c'è il mondo, chiunque sta facendo il proprio brand. Fra poco lo lancio pure io. Aspettate ancora un po', due soldini in più, due iscritti in più al canale e lo faccio pure io. Ve lo giuro. Don't, 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 don't do it. Don't, don't do it. Perché è innegabile dire che il sogno di molte persone che si mettono sui social a fare questo lavoro, non so se è facile vedere il resto, io ci sto provando da tre anni a farlo diventare un lavoro, quello è il sogno finale di aprire il proprio brand o comunque diventare un make-up artist affermato, però tendenzialmente tutti vogliono il loro brand. Ecco, vi faccio questo spoiler. Tutti noi che stiamo dietro gli schermi di cellulari o di fotocamere, di computer o della PlayStation, vogliamo il brand, tutti lo sogniamo e non è facilissimo da realizzare, mi sono già informato. Però se come abbiamo detto è difficile creare un proprio brand, è ancora più difficile tenerlo in vita. Tenere un brand in vita al giorno d'oggi è difficile per vari fattori, tendenzialmente l'industria make-up è troppo veloce ormai, esce un prodotto, non si fa in tempo ad apprezzarlo, che diventa subito dimenticato e si passa al prodotto successivo, che chiaramente questo è un problema per il content creator, ma è ancora più un problema per l'industria, per chi produce il make-up, perché deve avere sempre idee innovative che stiano a galla e che cerchino di diventare il prossimo prodotto virale. Ecco, a voi l'ardua sentenza se ci riescono oppure no, secondo me il più delle volte no. Però devo dire che questa tendenza a creare brand di make-up è arrivata anche in Italia, c'è stato un primo in realtà periodo florido di creazione di brand italiani, come può essere appunto MULA o Clio Make-up Shop, poi c'è stata un po' una stasi della produzione, della creazione di brand italiani creati da celebrità o influencer, e c'è stato un secondo risorgimento circa 2019-2020. C'è stata la parentesi di Cosmify, ma di Cosmify ne parleremo in questo video, anche se in maniera un po' incidentale. Non andremo effettivamente nel vivo del discorso di Cosmify, perché sto preparando un video anche per quello, però parleremo più che altro di quello che è Cosmify come idea, perché ci servirà per parlare di un altro brand. E comunque dal 2020 abbiamo visto un secondo risorgimento di brand, di content creator, influencer, come li potete chiamare, insomma quelli che stanno davanti alla telecamera. Quello che ho notato io è che è vero, c'è stato questo risorgimento di brand, di content creator, ma non tutti stanno andando benissimo, o meglio, alcuni sono già caduti, come il caso di Jacqueline Cosmetics, o Juno non hanno retto, per X motivi non ha nessuno dei tuoi, in realtà ha mai spiegato il perché, ma tra poco ci arriviamo bene. Altri invece sembra che stiano fiorendo sempre di più, perché creano una sorta di diversificazione di mercato, come può essere Nicole P, che è vero, è un brand beauty, ma vende anche altri prodotti che sono comunque confacenti, appartengono alla figura, il personaggio di Nicole Pallado. Nicole P Cosmetics, il brand di Nicole Pallado, o il brand di Melissa Tani, Melissa Tani Beauty, sono realtà indie. Cosa si intende con realtà indie? Sono delle creazioni di persone indipendenti che creano la propria attività, la propria impresa. È perché vi sto facendo questa divisione. Non tutti i piccoli brand sono realtà indie. C'è chi è più chiaro parlandone, chi meno, però è giusto che sappiate già questa prima differenza. La particolarità del brand indie è quella di non avere investitori, essere una realtà piccola che si autofinanzia e che poi a un certo punto crescerà possibilmente e andrà solo a quel punto ad avere investitori. Opposti ai brand indie ci sono quei brand che nascono o da subito con grandi investitori, quindi appartenendo a una grande azienda, ma in questi anni abbiamo visto un'altra categoria nascere. Ovvero quelle aziende che attuano, quella che in inglese, quella che... Preparate il vostro quadernino qui, che vi sto per dare una lezioncina di marketing, quelli che attuano una multi-brand strategy. Cos'è una multi-brand strategy? È quando una società crea vari brand nello stesso mercato. Definizione semplice, quindi c'è Zia Charlie che crea il brand per La Sirenetta, per Sailor Moon e per Mermelody, ok? Che appartengono tutto allo stesso mercato dei cartoni animati, in questo caso. Un prototipo di questo caso di marketing è Cosmify. Cosmify non ha esattamente attuato una multi-brand strategy, ma ha fatto qualcosa di molto simile. Cosmify, se vi ricordate, o se non lo conoscete, ve lo spiego io, era un'azienda, un brand, che prese determinate icone, come le chiamavano, che erano semplicemente dei beauty content creator, o in generale comunque content creator, e poi avrebbero creato i loro prodotti. Ecco, le icone in particolare non si occupavano della creazione, o perlomeno erano direttori creativi del prodotto che avrebbero poi messo in vendita, ma di tutta la parte economica e di costi della produzione se ne occupava l'azienda, perdonatemi le virgolette, l'azienda madre, quindi in questo caso Cosmify. In questo caso però Cosmify non creava dei sottobrand. Possiamo in qualche modo dire che i content creator erano il brand stesso, quindi c'era Cosmify, che era appunto l'azienda che metteva in atto il multi-brand strategy, che diceva a The Lady che avrebbe potuto creare il suo prodotto. The Lady però in quel momento diventava sia content creator che brand stesso, tant'è che poi Cosmify cambiò la sua natura una volta che perse tutte le sue icone, perché a un certo punto, non ve la sto a fare troppo lunga, però Cosmify perde tutte le sue icone, le persone si distaccano per un motivo o per un altro. Nessuno l'ha mai reso pubblico comunque questo distaccamento che l'hanno sempre temuto un po' sotto traccia, si capiva ma non si capiva, e Cosmify diede la possibilità ad alcuni content creator di creare il proprio brand sotto Cosmify. Quindi in quel caso Cosmify da roto strategia di multi-brand passa effettivamente a una multi-brand strategy. Un esempio può essere il brand di Miss Lolla e Cutie che poi lei ha rilevato comprandosi le quote, quindi ora i Cutie appartiene solo a Miss Lolla, oppure può essere il brand di Basic Gaia, il brand di Carmi, questa è l'infarinatura generale. E a questo punto voi mi potrete dire, sì ma perché ci stai ravanando con questa cosa del multi-brand strategy? Non c'è un motivo, tranquilli. Andiamo a parlare di un brand che ha fatto molto di scuotere di sé quando è uscito, ha fatto un bel boom, soprattutto tra i propri colleghi, tra i content creator, ma anche tra il pubblico, avvero Juno di Cleo Toms. Cleo Toms è una content creator che possiamo quasi definirla una OG in realtà di YouTube. Lei carica contenuti su YouTube dal 2013, poi ha smesso per un periodo e ora si concentra di più sulle piattaforme verticali. E nonostante ciò, sicuramente lei è una YouTuber di vecchia data. Dal 2013 lei è del 96. Fatemi fare un attimo dei calcoli. Io ho nel 2013 avevo 18 anni. 17 anni. Lei ha 16-17 anni, ha creato la sua pagina YouTube e ha iniziato a postare la sua vita, make-up, viaggi, tutto quello che rappresentava Cleo Toms. Cleo Toms che anche qui non è il suo vero nome, cioè nel senso Cleo sì è il suo nome, è il suo nome di identità, è il suo nome di battesimo. Che per non so se sia il nome di battesimo, perché non so se puoi dare Cleo come nome. Beh, comunque, Toms no. Ho trovato un'intervista in cui lei diceva che aveva scelto Toms perché... Era difficile il ragionamento, ora ve lo dico. Dunque, Toms racchiudeva il suo amore per i fratelli Kaulitz di Tokyo Hotel, di cui uno dei due si chiamava Tom, perché racchiudeva anche l'amore per i One Direction, perché c'era Harry Styles e Louis Tomlinson. E lei in un video, appunto, dice che di non ragionarci troppo, che è tutto nato da una sua idea complicata, e che comunque Toms non lo spiega di più. Chi dà queste informazioni però non si sofferma lì a spiegare il perché. Non ha mai voluto rilasciare pubblicamente il suo cognome, io lo so, non ve lo dirò, perché è una violazione della praga, quasi se la persona non vuole che si sappia il proprio cognome, non sarò io a rovinare, a rompere questa sua decisione, non mi sembra il caso. E quindi lei non ha mai detto il suo cognome ufficialmente, ma così come ce ne sono altri io stesso. Io stesso non ho ancora condiviso il mio cognome, non so se lo farò, magari lo farò, però ecco, per il momento non l'ho fatto. Comunque Cleo, dal 2013, è una costante dei social e si arriva al 2020, quando il 17 settembre alle 16.30 lei annuncia la creazione del suo brand. All'inizio le persone pensavano che fosse un brand d'abbigliamento, c'era stata un po' di isteria di massa, tutti pensavano che appunto fosse un brand d'abbigliamento, quando poi invece lei rivela che il brand sarebbe stato un brand di make-up. I colori predominanti sono il rosa e il nero, perché lei spiega che sono i suoi due colori preferiti e che per tutta la vita lei si è trovata attanagliata nella sua doppia natura, da una parte una strega, dall'altra una ragazza molto clean, per bene, quasi un po' posh. E infatti se conoscete Cleo, lei ha questa doppia faccia, in un certo senso, da una parte le piacciono le cose gotiche, nere, esoteriche, astrologiche, e dall'altra invece è una ragazza che in inglese si definirebbe polished, quindi curata, tutta rosina, insomma da una parte una Barbie tutta rosa, dall'altra la Barbie gotica. E lei dice appunto che questo brand nasce con l'idea di riunire queste due parti che vivono in sé e così finalmente trovarle una casa a queste due parti. Io trovo deliziosa questa spiegazione, infatti la sua prima uscita è confacente, in realtà questa sua spiegazione le fa uscire una palette che si chiama Basic Witch, con un concetto anche abbastanza innovativo in realtà, quello di non dare a ogni cialda un nome, ma di dare a ogni cialda una parola che letta insieme creava poi una frase. Ho trovato delizioso questo modo di fare che poi è stato ripreso anche da Nicole Pallado e secondo me era un'idea carina. Il brand comunque nasce in una maniera particolare. Lei dice che questo è il suo brand, ma io non ne sono così certo. E quindi sono andato a fare ricerche perché un brand indie appena nato si possa permettere di mettere dei cartelloni in Porta Garibaldi a Milano lo trovavo un po' particolare. Mi sembrava una scelta un po' forte. Comunque un brand costa tanto, la manifattura dei prodotti costa tantissimo e se tu con un brand appena nato lanci subito una campagna promozionale così forte, così costosa, o se c'è Regener, che comunque c'ha i soldi perché se c'è Regener che te lo dico io a fare. Dall'altra ti dico, boh, tant'è che quando uscirono i brand indie di Melissa o Nicole, ma ancora della Sindina, non è che ci fossero i cartelloni in giro che dicevano Melissa Pani Beauty, Nicole P Cosmetics. C'è voluto dal tempo perché anche Nicole Pallado arrivasse poi a essere rivenduta da Pinalli. per Juno non c'è stato questo passaggio, è stato un brand subito catapultato come una rivoluzione, come un brand molto forte. Scelta curiosa che, vi ripeto, mi ha lasciato un attimo confuso perché letteralmente non puoi permettertelo, a meno che tu non abbia grossi investitori dietro, non puoi permettertelo. E infatti io lì ho detto ma vuoi vedere che Cleo Toms aveva degli investitori? Io vorrei subito chiarire questa cosa perché poi si potrebbe entrare in speculazioni o altro. Non c'è niente di male ad aver investito, magari ad averceli un investito. Se qualche investitore venisse e mi dicesse Charlie, vuoi fare il tuo brand? Io ti do la disponibilità economica e tu sei il direttore che... Ma io ci metto la firma, ci metto pure le vostre di firme, subito che lo faccio. Quindi è una cosa bella. In realtà non capisco perché non l'abbia detto. Tra l'altro poi, ulteriore cosa strana che mi ha fatto ancora di più dubitare, farmi due domande, è il fatto che il suo brand, appena nato, subito ha ricevuto articoli di giornali su Elle, su Vanity Fair, su qualsiasi piattaforma giornalistica. Ho detto tesoro, i giornalisti si pagano. Quindi com'è possibile che da subito ce lo possiamo permettere? Ora, io non conosco il conto in banca di Cleo, quindi poteva anche essere che lei potesse permettersi una campagna di marketing così feroce da subito. Per lei se lo può fare da subito, Cleo vorrei essere come te. Però no, in realtà la verità è un'altra. E cosa succede? Vado a fare le mie ricerchine, vado subito a cercare il sito di Juno, perché vai nel posto che ti serve per cercare le informazioni, no? e ho trovato questo. Juno quindi non esiste più. Poi sono andato su TikTok per vedere cosa dicesse Cleo in merito e effettivamente Cleo dice che è stato un viaggio molto interessante, quello con Juno, che l'ha formata, che gli ha dato modo di crescere come persona, ma questo viaggio è finito. Quindi ragazzi, Juno è morto. Non torna più Juno. Ci sono alcuni pezzi ancora disponibili da Pinalli. È una cosa strana, perché effettivamente il brand sembrava andare abbastanza bene in realtà. Io mi ricordo che molte persone compravano i suoi prodotti e ne parlavano bene. Quindi a quel punto io mi sono visto perso, ho detto vabbè, non lo faccio il video a questo punto, parlerò in maniera generale, però io non ce la faccio. Io devo fare le mie ricerche per stare bene con me stesso, perché devo darvi delle prove. E quindi ho detto, boh, vediamo un po' cosa trovo e inizio a cercare Juno da tutte le parti. Ho scoperto che di Juno e di Juno e Brandon esistono abizzeffe. Cioè mi sembra una parola più usata. Juno tra l'altro, scusate se non ve l'ho già detto, nasce come nome perché è il cane di Cleotons, però è anche ispirato alla dea Junone e fa un po' appunto riferimento, come vi ho detto prima, all'amore di Juno per l'astrologia e l'esoterismo. E vi dicevo appunto che i brand che si chiamano Juno non esistono. H a calci. Cioè, non lo so, volete creare un brand? Juno. Vai a capire qual è il brand Juno giusto, soprattutto perché quelli erano brand, molti erano brand anglosassone o comunque anglofone, e quindi c'erano un sacco di informazioni. Ma alla fine ce l'ho fatta. E ho scoperto che Juno non è un brand indie. Vi ho già detto cosa si intende per brand indie, quindi non ci soffermeremo di nuovo, ma è un brand che dietro ha una società più grande. In questo caso la Beauty Farm. Anche qui è una specificazione in Italia, le informazioni sono pubbliche. Non vi starò a dare chiaramente i riferimenti o il codice ATECO, oppure quanto guadagnano, perché non mi pare il caso, però ecco, fa parte di Beauty Farm. Beauty Farm è un'azienda che attua il multi-level strategy. Si è cancellata tutta la clip mentre facciamo quest'occhio, quindi lo rifacciamo da questo. Vi dicevo, la Beauty Farm è una società che si occupa di creare e produrre dei brand per i beauty content creator e l'influencer. Questo rientra appunto in quello che vi ho già detto essere il social brand strategy. Quindi loro si occupano della produzione del prodotto e poi cercano del brand, della creazione del brand e poi cercano dei content creator, dell'influencer a cui dare in mano questo brand. Brand che poi verrà appunto riconosciuto con la personalità di quell'influencer. Ed è così che nasce Juno e all'interno della Beauty Farm c'è anche il brand di DempT, Extra Landia, c'è Yumi, c'è Eilish, il brand di un'altra content creator. In realtà Juno non è l'unico brand che fa parte di Beauty Farm o che perlomeno faceva parte perché infatti nell'ultimo periodo Cleo non uscivano più prodotti dal 2022 non si aggiornava proprio neanche la pagina Instagram e le persone hanno iniziato a insospettirsi sul perché comunque non ci fossero più uscite di questo brand. Perché vi ripeto non stava andando male, le persone si erano affezionate sia perché chiaramente era di una content creator che loro amavano sia perché effettivamente faceva dei bei prodotti e quando hanno visto che non c'erano più novità da questo brand hanno iniziato a dirsi beh, che fine ha fatto? Tant'è che Cleo alla fine pubblica questo video e alla fine ho deciso di vendere le mie quote di giuno quindi questo progetto per me è arrivato alla sua conclusione perché è proprio di questo che si parla in pratica l'azienda in questo caso la Beauty Farm crea il brand e dà delle quote al creator in particolare facendolo diventare il direttore creativo o perlomeno io ho capito che questo è il loro modus operandi se c'è qualcuno di più esperto di me che mi vuole correggere qui sotto nei commenti siete sempre liberi purché è fatto con educazione e rispetto ed è così che appunto finisce il brand di Cleo Tom's giuno vi dico e a me dispiace quando vedo un brand chiudere perché immagino i sogni che ci siano dietro un brand immagino le i desideri che ci siano no? quella voglia di creare qualcosa perlomeno io immagino sempre che facendo il mio brand se questo dovesse andare male dovessi chiuderlo io ci soffrirei tantissimo perché creare un brand è letteralmente il mio sogno il poter creare dei prodotti che mi rappresentino è che l'idea che voi li possiate avere mi mi fa vibrare non vedo l'ora di arrivare a quel punto e lo sto manifestando arriveremo a quel punto e quindi immagino quanto sia stato triste no? anche per Cleo farlo ma soprattutto doverlo dire perché comunque vuoi o non vuoi la vivi un po' come una sconfitta perché è un capitolo che si chiude è un capitolo che si chiude e che magari pensavi potesse essere il tuo destino o comunque la tua nuova vita quella di creare prodotti e via io non so perché il brand abbia chiuso lei non l'ha specificato non ci sono informazioni sul perché abbia chiuso non ci sono dati di vendita chiaramente quelli sono coperti da privacy quindi non so neanche immaginare perché vi ripeto io da utente esterno mi sembrava che le persone apprezzassero questo brand i concetti era qualcosa che sicuramente era molto identificativo di Cleo Tom non non fraintendetemi perché comunque vi ripeto lei è molto identificabile con questa sua passione per l'esoterismo però un po' polished un po' è lei è lei in tutto e per tutto quindi secondo me non lo so sono vorrei vi dico la verità vorrei sapervi perché vorrei leggere i conti e capire il perché sia successo però probabilmente è una di quelle informazioni che non avremo mai detto questo non per tutti i brand chiaramente c'è questa fine non tutti i brand nati da influencer finiscono male ad esempio Nicole Pallado sta facendo un ottimo lavoro con il suo Nicole P Cosmetics e io penso che in parte sia dovuto a Nicole stessa perché Nicole è una forza della natura sia in termini di vendite sia in termini di comunicazione lei è proprio brava a comunicare con il suo pubblico lei riuscirebbe davvero a vendere il mare ai sardi è proprio brava è bravissima a fare quello e secondo me una cosa vincente che sta facendo Nicole che può essere vista in un doppio modo perché è il fatto di personalizzare tantissimo il suo brand e fino a qui voi state dicendo da Charlie si impazzita ovvio che se il brand è di una persona lo personalizzi come vuoi tu perché lei non si sta soffermando al make up lei sta espandendo il suo roster di prodotti sta mettendo ha messo da subito profumatori per le macchine che sono qualcosa che mi ricordano tantissimo Nicole perché Nicole non ha mai nascosto questa sua forte passione per le auto in particolare le auto di lusso mi ha sempre parlato quindi quando io ho visto che lei faceva questo prodotto per le macchine dicevo cavolo ci sta perché è Nicole poi ha iniziato sempre ad ampliare di più il suo catalogo includendo cover per cellulari profumini per ambiente porta porta borse porta porta computer insomma Nicole P sta prendendo direzioni che da una parte possono un attimo far chiedere perché perché comunque se tu ti chiami Nicole P Cosmetics sarebbe naturale fare cosmetica invece Nicole sta usando il suo brand per fare anche da una parte ve lo chiamerei quasi merchandise perché io rivedo molto di Nicole in quei prodotti vedo quei prodotti e non dico ah sono prodotti X sono i prodotti di Nicole perché c'è lei in quei prodotti quindi quella sicuramente è una strategia che può piacere come non può piacere per l'amore del cielo io la trovo curiosa perlomeno curiosa perché mi sorprende come lei stia riuscendo ad ampliare tutto in una maniera anche logica senza perdere di identità un altro brand che è nato è quello di Melissa Tani Melissa Tani Beauty Melissa Tani Beauty Melissa Tani ha fatto uscire da subito una palette che io ho comprato subito non vedevo l'ora di averla perché Melissa l'ho sempre seguita ed ero certo che la sua palette sarebbe stata di alta qualità non mi ha infatti deluso non ha deluso le mie aspettative non ho capito benissimo le altre uscite che ha fatto devo essere sincero ha fatto delle uscite molto distaccate ha fatto uscire prima dei pennelli che se fossi stato io nel suo posto li avrei fatti uscire prima molto più vicini alla palette però comunque penso che anche il suo brand se la stia cavando più che altro la cosa di Melissa è che noto io perlomeno quindi da totale profano e si sta parlando è che fa passare tanto tanto tempo tra un'uscita e l'altra e come vi ho detto all'inizio di questo video far uscire far passare tanto tempo in un'industria così veloce può essere un'arma a doppio taglio perché da una parte sicuramente immagino che Melissa metta una ricerca nella qualità dei prodotti è della perfezione maniacale lei è della vergine dopo tutto quindi io immagino che lei sia proprio lì ogni secondo che pensa che rimanda i tester di laboratorio ogni tre secondi pur di far uscire il prodotto perfetto dall'altra però è un impedimento perché il brand potrebbe perdere hype e se è vero che comunque è il brand di una content creator molto amata abbiamo visto altri brand di content creator che purtroppo non ce l'hanno fatta a resistere a comunque questa industria che è molto veloce poi c'è il brand di Demt Extralandia che nasce sempre sotto Beauty Farm però Christian Demt è stato non voglio dire onesto però è stato molto più trasparente da subito nel dire che lui non era proprietario del brand Melissa e Nicole sono proprietari del proprio brand e loro loro sono effettivamente dei brand indie mentre Demt da subito ha detto nel video di presentazione che aveva ricevuto questa fantastica proposta degli investitori e lui giustamente aveva colto la palla al balzo e aveva creato il suo brand io vi dico la verità non ho provato niente di Christian di Demt di Extralandia non perché non non mi piaccia perché in realtà mi piacciono i suoi prodotti ma perché non mi sono mai ritrovato ad acquistarli vi dico la verità però ho sentito dire da tanti miei colleghi tanti miei amici che l'hanno comprato che i prodotti sono di altissima qualità e non mi aspetterei di meno in realtà da una persona come Christian che secondo me è sempre stato uno dei delle persone più talentuose a livello di make up in Italia detto questo Extralandia comunque sembra sta andando molto bene un po' perché spinto dagli altri micro content creator infatti tendenzialmente quando nascono questi brand di content creator se da una parte ci sono i follower stessi che chiaramente sono i consumatori primari di questi brand dall'altra ci sono anche tutti i micro content creator che fanno letteralmente le corse a per accapparrarsi qualche prodotto della collezione perché perché sperano di poter fare contenuti e poi essere ripostati da quei brand e ottenere a loro volta notorietà che è un ragionamento giustissimo io io sapete che io sono un po' particolare io mi perdo nella notte dei tempi io non comunque sì Extralandia sembra sta andando forte e sono molto felice per per Christian chiaramente sono felice per Melissa e per Nicole sono curioso di sapere come continueranno a cambiare a evolversi perché è quella poi la forza saper reinventarsi e saper evolversi stare ai passi stare al passo con con l'industria quello secondo me ne decreterà la la vittoria o la disfatta per questi brand ad esempio vi ho citato prima Cosmai Fikes era reinventata come con una con una strategia di social brand marketing e aveva fatto la collezione aveva creato il brand per Basic Gaia con i cutie con un carmi però in realtà io non ne sento più cioè so per certo che Lolla si è ha comprato le quote del brand ed è diventato indipendente tant'è che ora lei viene rivenduta pure in rinascente quindi stra complimenti tra l'altro è sarda quindi un po' di orgoglio c'è e invece del brand di Gaia e di Carmi non si sa più niente so che Carmi si è allontanato dal mondo del make up forse si è allontanato del tutto dal mondo del content creating mi pare di aver capito che non voglia più fare questo lavoro che ci sta perché le persone cambiano quindi non per forza farei questo lavoro tutta la vita ha spiegato il perché e via quindi un po' arrivando alla fine di tutto questo discorso cos'è che premia un brand di un content creator di un influencer vincente rispetto a un altro secondo me la base è il fatto di sapersi reinventare il rimanere freschi anche con le idee ed essere molto veloci dall'altra chiaramente c'è una base che è quella economica quindi per realizzare dei prodotti devi fare tanti soldi con il vecchio prodotto per poterli reinvestire in un altro però come abbiamo visto anche il fatto di avere soldi dietro in realtà non basta per portare avanti un brand è il sogno di avere un brand il sentirlo tuo il volerlo con tutto te stesso dall'altra appunto c'è proprio questo bisogno di saper sempre rinventarsi altro è sicuramente un'altra questione che detta un po' la legge un po' segna il destino di nuovi brand è che il mercato è saturo ci sono troppi brand e le persone non sanno più non capiscono più perché rivolgersi a uno piuttosto che a un altro soprattutto quando poi magari una persona è follower sia di Melissa che di Demt che di Cleo Tom chi scegliere tra loro tre perché oggettivamente a meno che tu non faccia questo lavoro a meno che tu non abbia un'enorme passione per il beauty è improbabile che tu abbia 46 palette e che tu voglia comprare le stesse palette che voglia comprare tutte queste palette quando magari ci sono dei colori simili che te ne basterebbe una quando arriverò io col mio brand saranno sarà difficile perché io sono mezzo sagittario quindi magari cambierò idea ogni tre secondi comunque un altro video è finito qua è stato un video un po' più cheat chat è stato un video un po' più chiacchiere dove esponeva i miei pensieri vi ho raccontato un po' a grandi linee la situazione dei brand dell'influencer fatemi sapere se volete un video più dettagliato magari su qualcuno di questi brand magari ne farò uno racchiudendo meglio vari brand piccoli perché magari non c'è una storia così grande però o magari dove li proviamo proprio tutti insieme volete un video più make up classico dove proviamo tutti i brand degli influencer italiani fatemelo sapere con un commento fatemi sapere con un commento se conoscevate già questa storia se avete visto il video fino a qua facciamo un emoji segreto ovvero il cuore nero che secondo me ci può stare con Cleo Toms e Juno quindi lasciate un commento con un cuore nero e chiaramente vi invito di nuovo a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per crescere in questa piattaforma ogni mi piace e ogni iscrizione vale il mondo per me e vorrei potervi abbracciare tutti ma noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video e fino ad allora ricordate sempre be safe be cool and be you ciao angeli e ora vado a mangiarmi la pasta alla matriciana 10 1 1 2 3 3 3 6 5 6 Grazie a tutti